Lo Stato italiano ha il compito morale e costituzionale di favorire lo sviluppo del meridione d'Italia. Ma a causa dell'austerity europea, della moneta unica e dei politici italiani scellerati che inseguono la Merkel e la Troika, oggi al Sud si tagliano sempre più risorse, ad ogni costo, un costo che pagano i cittadini del Mezzogiorno d'Italia. 19% di disoccupazione, di cui il 50% giovanile. Chiudono 573 imprese al giorno. Dal 2007 ne abbiamo perse 32.000. Se non ci liberiamo dall'euro, il Mezzogiorno d'Italia diventerà una terra desolata e spopolata. Solo riacquistando una vera sovranità economica potremo far riprendere la mia terra. Io vengo dalla Campania e tutte le altre regioni del Sud che in questo momento sono schiacciate dalle politiche di austerity, che significa meno sanità, meno servizi scolastici, meno servizi pubblici. Il 13 dicembre noi lanciamo il Firma Day. Anche io sarò ai banchetti a raccogliere le firme. Fuori dall'euro. hotel vendita a camera, meno servizi pubblici. Grazie a tutti.